Puntata natalizia qui a Cantiamo Napoli e con noi Enzo Barone Ciao Alfonso, come stai? Tutto a posto? Bene Enzo, bene Mi fa piacere Grazie di ispirare a Di Natale, vedi? Ma finalmente, dai, ci voleva Un saluto alle due nostre bellissime ragazze che stanno qui, non so i nomi però Maria Arca Claudia Eccola qua, buonasera a loro e buonasera a tutto lo staff di Cantiamo Napoli Allora Enzo, un po' di novità da Enzo Barone, cosa ci presenti stasera? Sì, io questa sera canterò la canzone del disco sempre Targato Napoli Tutta la videocuttura è una canzone che è andata molto molto bene E a Natale usciranno due nuovi brani con il maestro Danisi alla Zeus Record E non sveliamo altro perché a finirei a poi Te l'ho domandato perché già ho visto, ho saputo qualcosa dal maestro Danisi Stiamo in lavorazione Stiamo lavorando, sempre ad un certo livello, lo sai, con la Zeus che adesso ha fatto pure lo studio nuovo E lo proviamo, dai, lo proviamo ma sicuramente sarà una bella soddisfazione Danisi è una garanzia Allora Enzo, un augurio da parte di Enzo Barone al nostro pubblico? Io auguro sicuramente, come lo facciamo ogni anno qua a Cantiamo Napoli Grazie a te che ci dai questa bellissima occasione Di augurare buon Natale a tutti quanti voi E un felice anno che è pieno di lavori e pieni di cose belle Ok, allora auguri, auguri, auguri Ma seguite soprattutto Cantiamo Napoli! Grazie a te che ci dai 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 Segnando un futuro Grazie a te che ci dai Grazie a te che ci dai